Grazie Presidente, gentile alto rappresentante. Come lei ha ricordato, la tragedia avvenuta in Francia ci ha dimostrato inequivocabilmente che non esistono frontiere per una sfida globale come la lotta al terrorismo. Ecco perché chi vede come soluzione il rafforzamento dei bastioni della fortezza Europa è nel torto, perché risponde con categoria del passato a problemi del presente. Oggi, come sempre, la migliore terapia per curare questa malattia è eliminarne le cause e limitarne la diffusione. Il terrorismo raccoglie animi frustrati e rancorosi, esasperati dalla povertà, dall'emarginazione, dalla discriminazione, sedotti dall'illusione di una violenza come forma di distorto riscatto. Vale in una baglia del Cairo di Tunisi, come in una di Parigi o una di Roma. Non c'è molta differenza. Per questo le chiedo un impegno concreto per un piano energico, specifico e immediato, per sostenere paesi vicini come la Tunisia, nuovo modello ed esempio di transizione democratica nel mondo arabo. La sua fragilità economica e sociale pone i suoi abitanti in bilico tra cittadini di una moderna democrazia e foreign fighters del Jihad. Per vincere la sfida hanno bisogno di un nostro vero sostegno e ne hanno bisogno ora, perché il terrorismo non sarà mai la risposta, ma certe domande ne meritano comunque una. Facciamo in modo che sia quella giusta.